con questo video tutorial vedremo come inserirsi con riserva nelle gradatorie per il sostegno di prima fascia per chi sta concludendo un tfa sostegno sesto ciclo e andiamo a vedere come inserirsi dalle azioni disponibili facciamo accedi e aggiungiamo gradatoria andiamo sul tipo del gradatore raggiungere e vediamo che al tab 7 ci sono proprio le supprese supposti sostegno prima fascia e scegliamo la tipologia se all'infanzia se alla primaria o secondaria di primo grado o di secondo grado facciamo per esempio il sostegno per il secondo grado cliccando qua vedremo che si aprirà la sezione per il titolo di accesso che nel caso specifico essendo ancora non concluso il la fase del tfa si fa una dichiarazione di conseguimento della specificazione dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 20 di luglio 2022 e così facendo l'aspirante si impegnerà a comunicare all'ufficio scolastico provinciale lo scioglimento della riserva cliccando qui e potrà fare l'inserimento in prima fascia sostegno comparirà questa dizione gradatoria inclusa con riserva tuttavia l'aspirante se avesse tre anni di servizio fatto sul sostegno alle superiori può anche inserirsi in seconda fascia in alternativa nel caso in cui non dovesse riuscire a sciogliere la riserva per cui può aggiungere anche se lo volesse la tipologia della seconda fascia sul sostegno ovvero sia il tab 8 e inserirsi anche contemporaneamente alla prima fascia anche in seconda fascia scegliendo tra queste opzioni quella per esempio del possesso delle tre annualità sul sostegno e la il possesso della laurea del della laurea o di vecchio ordinamento ma ci sarà la specialistica cliccando qui potrà così dichiarare questa la classe di concorso se il titolo di accesso abilitante altrimenti può anche non riempire questo campo ma il titolo di studio per esempio laurea in ingegneria e dire quando ha conseguito la laurea per dunque per esempio può inserire un facciamo il 9 dicembre del 2021 e dire dove si è laureata per esempio università della calabria e a questo punto dando poi la votazione per esempio 110 su 110 potrà inserirsi mettendo anche la categoria di appartenenza cioè i 24 csu potrà inserirsi a pieno titolo anche in seconda fascia così si ritrova inserito in seconda fascia su sostegno perché aveva le tre annualità di servizio già svolte e potrà poi però togliere la riserva e rimanere solo in prima fascia speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori ne seguiranno sicuramente altri continuate a seguirci e arrivederci grazie 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 grazie